Buonasera, Diana Akhmatova, strinse le mani sotto la scura veletta. Strinse le mani sotto la scura veletta. Perché sei pallida quest'oggi? Perché di acerba tristezza l'ho ubriacato sino a stordirlo? Come dimenticare? Egli uscì barcollando, con le labbra contratte della pena. Io corsi giù, senza sfiorare la linghiera, corsi dietro a lui sino al portone. Ansimando gridai, tutto è stato uno scherzo, se te l' andrai morirò. Sorrise con aria tranquilla e sinistra e mi disse non stare nel vento.